Partiamo dalla riete. Le finanze sono il leitmotiv della giornata. In programma un incontro di lavoro per discutere gli intenti e definire il piano d'azione. Eventuali divergenze o tensioni sono superabili, per esempio imparando a ignorare le rimostranze del capo ufficio. Toro, giornata rassicurante. Grandi prove di amicizie e ideali condivisi. Disponibilità verso un collega che attraversa una fase difficile. Già sapete che il favore vi verrà restituito. Gemelli, gli astri di oggi sono molto capricciosi. Si prevedono complicazioni in ogni settore. Difficile capire chi siete e cosa volete davvero. Le emozioni vi sfiorano ma non riuscite ad afferrarle. Cancro, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente. Leone, giornata fonte di malintesi e grattacapi, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto. Avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. Vergine, lavoro sì ma anche tanti altri interessi da coltivare. Prima di tutto i viaggi che vi fanno un gran bene sia sul piano fisico che su quello emotivo. Bilancia, difficile staccarsi dai ricordi. Accettate i cambiamenti e la fine delle cose. Sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi nei ritagli di tempo. Vedrete che le cose andranno per il meglio. Scorpione, chiarimento con un socio di affari un po' permaloso. Se si entra in contrasto anziché collaborare, il vostro progetto avrebbe i giorni contati. Impigrirvi non vi fa bene, la stagione vi invita a stare all'aria aperta. Sagittario, le stelle sembrano parlare solo di lavoro. In compenso sfoggiate una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo. Capricorno, vitali e decisivi grazie alle stelle. Al lavoro, metodo e intraprendenza sono la formula vincente, insieme alla pubblicità. In coppia guardate avanti, progettando finalmente il futuro. Acquario, non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate. Ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà. Molto da fare in casa tra cucina, pulizie e faccende lasciate in sospeso. Pesci, stelle benevoli. L'ideale per festeggiare una buona notizia che intendete annunciare in famiglia. Anche il vostro amico a quattro zampe, se lo avete, parteciperà all'evento, tallonandovi come si impara la scuola canina.